Eccoci qua, benvenute a tutte, benvenuti a tutti e benvenuto caro Pietro Salvatore Reina, amico graditissimo di questa diretta dantesca. Ciao Pietro. Buonasera a tutte e a tutti, ciao Mirko. Ciao, ciao. Abbiamo anche questa bella immagine, Pietro ha fatto un florileggio di immagini che poi vi faremo vedere lungo la serata, perché poi la protagonista, come avete già potuto vedere dalle annunciazioni che avevamo fatto, è Lucia, mimica di ciascun crudele. Allora, intanto torniamo a noi due. Pietro Salvatore Reina, docente di, insegnante di religione, cultore appassionato dantista e membro, giusto, nel direttivo della società Dante Alighieri di Bolzano, giusto? Sì. Poi, insomma, poi vedrete anche un grande appassionato. E allora, così, l'idea era venuta da Pietro, tra l'altro Pietro lo ritroveremo anche ad aprile, perché faremo una diretta dedicata a una sua creatura, il Calenda Dante, ma insomma di quello ne parleremo a tempo debito. Questa è la settimana, chiaramente, di Santa Lucia e ci sembrava bello un po' dedicarci a un legame che poi vi accorgerete, un legame profondo di Dante con Lucia, dentro la commedia ma anche fuori dalla commedia. Ma poi sfruttiamo anche le competenze, le passioni e gli studi di Pietro, anche per avere un po', insomma, qualche informazione, qualche notizia poi su Lucia come figura storica, come potremmo definirla. Personaggio storico, come donna storica, sì. Personaggio storico, e dicevamo anche dal punto di vista di alcuni esempi iconografici, corretto? Guarda caso, siciliana. Vabbè, sì, siracusana. Perché poi Pietro, sì, adesso Pietro è nelle lande meranesi, ma in realtà tu sei siciliano, giusto? Sì. Che poi, adesso, la Santa è siciliana, però, non so se poi tu ci dirai anche qualche cosa, ma ha avuto un grandissimo successo nel nord, a Verona, a Verona, Santa Lucia è assolutamente la santa più importante. Anche Svezia. Anche Svezia. Eh sì, è un mito che, insomma, che ama stare al nord, per qualche, per qualche, poi ci dirai anche qualcosa su questo, su questa regione. Sì, è una delle più famose già fin dall'antichità, fin dal medioevo, perché è una delle poche inserite anche nel canone ecolistico, o che si legge o che si prega durante il dito della messa, già ai tempi di Papa Gregorio Magno, che morì nel 604. Quindi siamo appunto a Perpetua, a Felicità, ad Agata, e presente nel canone della preghiera ecolistica. Allora, io farei così, Pietro, lascerei intanto la parola assolutamente a te, perché partiamo dalla figura di Lucia e poi pian piano entriamo nello specifico dantesco. Quindi? Sì, sarà un dialogo che mi permette. Sì, 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 non sto zitto, non sto zitto. Matti, se volessimo magari usare un'immagine iconica, iconografica, dividiamo questa diretta, questo dialogo, in un dittico. La prima parte del dittico è formata dalle poche notizie che abbiamo della Santa. Intanto non è difficile riconoscere fra i Santi Lucia, perché l'elemento distintivo sono quegli occhi, quegli occhi posati su di un piatto, o come vedete nella prima immagine alla mia sinistra, opera di Francesco del Cossa, un autore importante del Quattrocento, è conservata alla National Gallery di Washington, questi occhi sono trasformati in fiore. Il nome Lucia arriva dalla, viene, deriva dalla radice latina Lux, che riassume in pochi significati quei profondi temi e miti che stanno a cuore alla cristianità. Una professoressa, questa è una nota che io ho trovato anni fa in uno studio fatto su Santa Lucia, la professoressa Lavinia Contini, docente alla Università del Salvador in Argentina, ha stitto, e leggo, non è un caso che la vista e con lei i suoi strumenti hanno rappresentato e rappresentano, nelle culture di tutti i tempi, temi e simboli molto significativi, cari a tantissime popolazioni. Quindi di Lucia si sa che nacque alla fine del III secolo, siamo quindi alla fine del 200, 283-84, gli anni ovviamente sugono, non c'è la precisione che potremmo avere al giorno d'oggi, e nasce appunto a Siracusa. In seguito a un pelerinaggio che compie sua tomba di Agata, Lucia ottiene la guarigione della mamma, che sappiamo si chiama Eutichia. Questo nome è stato appunto confermato dalla scoperta che il grande archeologo Paolo Orsi ha compiuto e ha fatto scavando nelle catacombe della chiesa di San Giovanni a Siracusa. Un'altra notizia che sappiamo di Lucia, storica, è che cresce in una famiglia cristiana, però è la promessa sposa a un romano. Lei, però dopo la guarigione della mamma, donò tutti i suoi beni ai poveri e avrebbe fatto e ha fatto voto di verginità a Gesù, al Cristo, quindi consacrando la sua vita al Cristo. Il suo futuro promesso sposo l'ha denunciata al proconsole di Siracusa, un certo Pascasio, e lei in seguito a questa denuncia ha subito dei sorprusi, delle violenze. Nella nostra destra vediamo uno dei sorprusi di Lucia che veniva tirata, che veniva portata via, però la forza di Dio, lo Spirito Santo, l'Altissimo, diciamo quello che vogliamo, avrebbe reso così forte Lucia da non poter essere mossa o spinta. La tela che vediamo, il quadro che vediamo, è un quadro famosissimo, che è di Lorenzo Lotto. Queste sono le notizie appunto scarne, quasi sicure, storiche, che abbiamo della Santa. Come dicevo prima... Tra l'altro, Pietro, Pietro, sì sì, adesso sei stato molto... forse siamo in fascia protetta, non lo so, ma io avevo letto che quello che subisce è molto, molto aspro. Ti sono rimasto molto generico apposta per questo. Sei rimasto molto dolce, però... Sarebbe stata anche collocata in un postibolo, quindi in un bordello, però lei sarebbe stata intatta, non sarebbe stata appunto violata, e subì vari sorprusi. Quello finale o quelli finali, parliamo prima di una lama al collo, e poi di una decapitazione. Sono queste... E poi queste notizie noi le abbiamo da una passio che sarebbe stata redatta o stitta fra il V e il VI secolo, quindi tanti anni dopo il martirio che Lucia subì al tempo di Dioteziano, quindi parliamo di 300-400 anni dopo, e da una seconda passio. Quindi le notizie sono abbastanza tardive. Però sì, Lucia avrebbe subito e sofferto, come tanti altri martiri, uomini o donne, delle varie chiese europee, sopprusi e violenze, sì, confermo. E la storia poi, scusami, degli occhi, questo passare agli occhi? L'ho detto appunto prima, gli occhi è anche un motivo antropologico, perché Matti... No, 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 scusami, mi sono forse spiegato male io. Nel senso, sul suo martirio, della sua... Sì, no, 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 negli occhi non c'entra niente. Quello degli occhi è una leggenda nata intorno, nel Medioevo, intorno al X-XI secolo. No, 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 non prima. E poi perché si ricollega al fatto del Nomen. Nomen è la Lucia. No, no, Lucia, infatti, vedi a Siragusa, per esempio, ha questo pugnale che le trafiggia la gola. No, no, lei morì così e poi dopo è decapitata. Agli occhi è una leggenda che fiorisce e sempre più si afferma dal 1100, dal 1200 in poi, non prima. Ok, scusami, ti avevo interrotto, Pietro. No, 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 no. Vai, 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 vai pure... Dimmi. No, vai, 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 vai pure tranquillamente. Poi, l'iconografia di Lucia si arricchisce di dati maggiori perché dal 500, e guarda caso, o prima e dopo il concilio di Trento, che si celebra a Trento, ricordiamolo, dal 1545 al 63, accanto alla figura, appunto, di Lucia trova spazio il tema, appunto, eucaristico. Infatti, un famosissimo e celeberrimo pittore quale Paolo Veronese in una sua tela che si conserva alla National Gallery di Washington documenta o racconta la morte di Lucia e prima di questa morte lei si ciberebbe del pane eucaristico. quindi la narrazione è anche molto più complessa ancora, quindi non soltanto gli occhi. Certo, certo, certo. L'audio è buono? Ti sente bene? Io ti sento benissimo, ti sento benissimo. Queste sono le notizie. Poi, come dicevo appunto prima, il suo nome è inserito nel canone della preghiera eucaristica e questo qui già circolava, già è presente ai tempi di Papa Gregorio Magno. Quindi parliamo del 580, se non ricordo male, al 604, data sicura di quando Gregorio Magno muore. Quindi è una figura importante, è un pilastro della preghiera, della vita, della edificazione dei cristiani e delle cristiane e poi ovviamente col discorso dell'evangelizzazione il suo nome si diffonde e si diffuse perché era quello la preghiera sia a Siragusa, sia a Roma, sia a Parigi come anche in Britannia o in Inghilterra. la preghiera eucaristica da quella lì. Queste le notizie brevi e scarne, parliamo di una santa dei primi secoli del cristianesimo e poi un po' del grande influsso che ha avuto appunto nell'arte. Il quadro, ripeto, più singolare è quello che abbiamo appunto messo in copertina, il primo, che fa parte della cosiddetta appunto tavola o del politico Rifoni del Cossa, quello dove gli occhi sono a forma di fiori, quindi gli occhi si trasformano appunto in fiori, anche per una mentalità un po' medievale dell'amore per i lapidari e per gli erbari, quindi questi fiori che nascondono delle virtù, che nascondono dei valori. questo in poche parole, penso chiare, è un po' la storia e la vita di Lucia, che era una santa molto nota, molto, sì sì, Lorenzo Lotto, ma prima ne parlammo, poi se scendi ancora vediamo la parma. Sì, quindi poi Giovanni Bellini, grande pittore appunto veneziano, con questo quadro esposto tuttora alla chiesa di San Saccaria appunto a Venezia, Lucia si vede a destra, abbiamo messo in risalto un particolare della pala, a destra e nella sua interezza, alla mia sinistra e nella sua interezza, alla mia destra c'è il particolare, penso che sia chiaro, giusto Mirko? Sì sì sì, io la vedo bene, è questa donna giusto a fianco. E poi, aspetta, andiamo, aspetta per te, perché io non sono un tecnico, eccoci qua. Questo poi è il capolavoro che tutto il mondo ci invidia, parliamo del seppelimento di Santa Lucia, opera del Caravaggio, tuttora esposto appunto a Siragusa, dove è una tela con un profondo realismo, con una profonda razia, questa donna, il corpo della donna a terra, è il gioco di luci ombre tipico del Seicento che Caravaggio rende grandioso e unico. Questo è veramente potente. E poi, fra i tanti amanti di Lucia nel mondo antico abbiamo il padre della nostra lingua italiana, quindi Dante degli Alighieri o Alighieri, poi anche Garzia Lorca dedica un poemetto a Lucia, ma sono tanti altri gli autori, gli istrittori, gli istrittici che hanno la devozione per Santa Lucia, perché Mattia è la Santa che custodisce, che protegge coloro i quali avrebbero delle malattie, infezioni o difficoltà appunto visive. Dietro abbiamo una domanda. Allora, abbiamo Rosanna Massari, la quale dice sono arrivata in ritardo, è possibile guardare in seguito? La rassicuriamo subito? Sì, perché, a parte che su Facebook rimarrà perpetuo, ma poi io provvederò a caricarlo su YouTube e quindi o dalla pagina mia o dalla pagina di Pietro vedrete anche il link, insomma, lo troverete anche sul mio canale YouTube, così abbiamo rassicurato Rosanna. Beh, sì, assolutamente, tra i devoti. Rosanna che è una cara amica che ci segue da Ragusa e in tale città c'è anche mia sorella che permettimi di salutare. Ah, certo, ma insomma si farà viva, spero, con i commenti. Abbiamo nominato insomma il devoto e quindi tra l'altro ci agganciamo assolutamente a quello che stavi dicendo, ovvero questa capacità di curare questa proprietà di protezione legata agli occhi. Allora, prima di entrare nella commedia, Lucia apparirà tre volte nella commedia un'apparizione per cantica. Giustamente insomma anche Pietro aveva trovato questo estratto dal convivio che mi sembra giusto leggere anche perché qua vediamo l'aspetto della devozione che poi alcuni commenti comunque riportano, c'è questa devozione personale, privata di Dante. tra l'altro questa sera doveva esserci Sandra Ceriani la nostra lettrice ufficiale purtroppo non sta bene, noi la salutiamo e speriamo di rivederla prestissimo all'opera. Posso dire una cosa che dopo tu la devozione che ricordiamo in latino vuol dire evolgere il cuore vuol dire appunto questa devozione del nostro grande poeta sommo poeta Andrea Righieri a Lucia di sicuro o è nata o sarebbe nata nelle due scuole concorrenti tra virgolette del Medioevo che però Dante frequenta e frequenta magari in toto parliamo dei francescani di Santa Croce e parliamo dei dominicani di Santa Maria Novella nella commedia dopo lui mette in pieno copiosamente gli elementi francescani e dominicani che di sicuro ha studiato anche se poi c'è quel versetto nella commedia che collocherebbe Dante fra i francescani però lì si è molto attenti guardini giusto Mirko sì sì a te la parola no tra l'altro volevo continuare il grandissimo omaggio che Dante fa sia Francesco che Domenico è nel cielo del sole e il canto undicesimo e il canto dodicesimo questi due canti abbinati e lui vede Francesco e Domenico come i due soli i due principi i due pilastri di una nuova spiritualità e per essere lo viso debilitato incontra in esso alcuna disgregazione di spirito sicché le cose non paiono unite ma disgregate quasi a guisa che fa la nostra lettering sulla carta umida e questo è quello che per molti quando vogliono leggere si dilungano le scritture dagli occhi perché la immagine loro vegna dentro più lievemente e più sottile e in ciò più rimane la lettera discreta nella vista e però puote anche la stella parere turbata e io fui esperto di questo l'anno medesimo che nacque questa canzone che per affaticare l'ho viso molto a studio di leggere intanto debilità e gli spiriti visivi che le stelle mi pareano tutte d'alcuno albore ombrate e per lunga riposanza in luoghi oscuri e freddi e con affreddare lo corpo dell'occhio con l'acqua chiara riunissi la virtù disgregata che tornai nel primo buono stato della vista e così appaiono molte cagioni per le ragioni notate perché la stella può parere non come ella è tra l'altro io avevo trovato in certi studi adesso non mi ricordo più dove la diagnosi esatta del tipo di infezione che lui avrebbe potuto non so un primario di oculistica aveva accertato che sicuramente lui avrebbe avuto questo tipo di malattia e tra l'altro immaginiamoci stavo pensando proprio all'aspetto autobiografico Pietro per un uomo che vive di libri che ama i libri che si nutre di libri e che scrive avere un problema alla vista deve essere stato uno dei traumi più più terrificanti per certi per certi aspetti allora da qui poi nei commenti noi leggiamo adesso io qui ho il Bambaglioli che dice parlando di Lucia in qua ips Dante sin tempore di te sue abuit maximam devozionem quella appunto che ricordiamoci che non è l'unica devozione che Dante Righieri ha e attesta nelle sue opere la massima Maria la verità mattina e sera lui appunto pregava però anche tante altre e poi anche lo dirai dopo tu in modo molto più più forte più evidente la modernità la grande modernità nel collocare nell'inserire le donne nell'inferno e tra le donne parliamo appunto della Vergine Maria e anche di Santa Lucia è una grande modernità che vende appunto sorpassa e supera i tempi beh beh questa è secondo me uno degli aspetti più dirompenti di Dante allora la devozione mariana io credo che la devozione mariana sia adesso per una piccola parentesi sia palese in Dante palese negli studiosi di Dante non sempre è così palese a scuola nel senso che non sempre viene passata e qua ci sarebbe anche da fare un ragionamento tra le donne che noi scegliamo quali donne scegliamo di raccontare della commedia perché senza nulla togliere a Francesca però se proprio dobbiamo dire in termini di peso Maria è un po' poco limitarsi alla preghiera alla Vergine del Canto 33 per rispondere anche per riprendere il tuo concetto importante alla fine la commedia io amo chiamarla la commedia anziché la divina commedia non la togliendo alla divina commedia la commedia ruota intorno ai due più importanti misteri o dogmi del cristianessimo l'incarnazione e la trinità che guarda caso sono appunto le due ultime immagini e due ultime visioni con cui dopo si conclude appunto il paradiso il canto più bello della commedia è il canto meno letto e meno capito sì beh tanti fa di tutto ma lo dice lui stesso che è difficilissimo alza le vele certo da raccontare ma allora se adesso invece volessimo passare a a a Lucia nella commedia perché poi è di questo forse anche che insomma poi chi ci segue l'ultima parte storica ritornoci che noi abbiamo subito una grande riforma del calendario nel 1582 quando siamo passati al calendario appunto Giuliano perché prima Santa Lucia come festività coincideva con il solstizio d'inverno quindi era gebrata intorno al 21-22 poi molte volte come succede ancora oggi il calendario dei Santi viene spostato anticipato annullato e tante altre cose ma una volta questa luce perfettamente coincideva pure con il calendario che ha una sua enorme importanza perché il calendario veramente indica il cammin che Dante anche tra l'altro ci fa fare della nostra vita sì stavo anche pensando beh questa è una notazione assolutamente necessaria che tu che tu stai facendo anche la scelta della settimana santa dimostra questa attenzione di Dante ma dall'altra dal purgatorio in poi c'è una scansione liturgica molto precisa che tu sicuramente apprezzerai coglierai più di me però dal purgatorio poi quasi ogni stazione è legata da tutta una serie di canti preghiere inni che 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 inquadrano dentro un tempo sacro ecco sì danno il ritmo sì perché la nostra vita è nel tempo e quindi Dante veramente appunto per questo cammino sceglie appunto anche questo questa sequela questo ritmo questa cadenza questa armonia c'è d'accordo Mirko? sì stavo pensando e qua potrei fare una piccola notazione polemica dei tempi moderni Dante compie un cammino mi vedi? mi vedi? cosa è successo? ok Dante compie un cammino non ti sento non ti sento non ti sento Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo finiti nelle tenebre. Immagino che questa sia tua sorella nel tuo tempo. Sì, sì. Nel nostro tempo commerciale noi non abbiamo più l'idea di un tempo sacro. Per noi è sempre possibile, è difficile quell'idea del sacro che indica proprio una sospensione dal tempo per compiere anche un certo tipo di riflessioni o di raccoglimento. Sì, viviamo di diverse epoche. Il medioevo è bellunci da noi quel sinistro cattivo e anche poco intelligente uso di medioevo nel senso di retrivo. Il medioevo è tutt'altro che il retrivo. Il medioevo è quel lunghissimo e meraviglioso appunto periodo che secondo Jacques Legoff, uno dei più grandi padri della storia medievale, andrebbe già dall'antichità, parliamo anche dal terzo secolo, e finirebbe alle soglie della rivoluzione industriale. Quindi molto più lungo dello scolastico medioevo e poi è un tempo dove era misurato dalle feste, dalle festività, dalla liturgia, da tante altre cose che purtroppo noi abbiamo un po' relegato, abbiamo messo un po' in secondo piano, no? Sì, sì, assolutamente. Allora, andiamo con Lucia nella... Sì. Quindi Lucia è questa figura di donna che Dante mette fra le prime, la prima è Camilla, la prima donna di cui si parla nella commedia, se non ricordo male, giusto? Non è Camilla, è Camilla. La prima è Camilla e dopo questa eroina, perché anche qua questo gioco, questo parallelismo che è tipicamente putarcheo, tipicamente dell'antichità classica, ma anche dantesco. Quindi mettere a costare figure diverse, ma simili. Quindi una pagana e una cristiana, per esempio. A me così anche piace farlo, anche piace pensarlo. Dopo Camilla, una delle altre grandi donne è appunto Lucia, ma che sta in bella compagnia. Assolutamente, è incastonata tra tre donne benedette. Allora, noi siamo nel canto secondo dell'inferno, canto in cui Dante è preso da dei dubbi, non sa più se affrontare o meno il viaggio, perché io non Enea, io non Paolo sono. E fa questa domanda, questo è importante, fa questa domanda a Dante e a Virgilio. Ma io perché venirvi e chi il concede? Questo è importante, cioè chi il concede? A questo punto Virgilio racconta di essere stato visitato, finché era sospeso nel limbo, di essere stato visitato da Beatrice. E a sua volta Beatrice racconta come mai lei, dal suo beato scanno, si è scesa giù nel cerchio primo. Donna è gentil nel ciel che si compiange, di questo impedimento vi ottimando, sì che duro giudicio la suffrange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse, or ha bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando. Lucia, nimica di ciascun crudele, si mosse e venne all'occo dove era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse, Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, uscì per te della volgare schiera. Non odi tu la pieta del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana o quel mar non avanto. Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro o a fuggir lor danno, com'io, dopo cotai parole fatte. Venni qua giù, del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, con ora te e quei cudito tanno. Allora, qua è interessante, caro Pietro, stavo pensando, come dicevi tu? Intanto che nel canto secondo dell'inferno noi abbiamo uno squarcio di paradiso. Abbiamo proprio una, in questo, che poi è il flashback, mentre Dante, anzi quasi, appena anche un attimo prima quasi della selva oscura, comunque mentre Dante è nella selva oscura, contemporaneamente in paradiso succede questo. E questa è una cosa, secondo me, molto importante. Mi vedi ancora Pietro, sì? Sì. È molto importante perché l'inferno inizia dal paradiso, che noi non ci dobbiamo dimenticare questo, perché se no, noi, cioè nel canto primo dell'inferno c'è il sole e l'amor divino, nel canto secondo c'è il paradiso e l'amore di Maria. Quindi questo inferno inizia a essere già molto ridimensionato. Su 34 canti già due sono prettamente molti. Ma perché la visione, perché la visione, ma poi anche qui Dante gioca, perché Dante è autore, Dante è personaggio, ma Dante è anche giudice. Dante ha una polisemia di agenti e di agenze nella commedia. E guarda caso, nel secondo canto dell'inferno siamo, ma più che nel cuore del paradiso, perché siamo nella candida rosa. Siamo nel cuore, cuore, cuore di questa cantica, della cantica predisiaca. E poi anche le parole, anche gli aggettivi non sono usati appunto a caso. Il fedele, per esempio, il fedele. È certo, ma poi ecco, l'altra cosa interessante è che in questo squarcio di paradiso che noi vediamo, non vediamo San Pietro, San Giovanni e appunto Maria, la donna nel cielo. E Maria, la quale chiama Lucia, muove Lucia da Beatrice. Beatrice è seduta vicino a Rachele. In questo piccolo, la finestra che si apre e vediamo uno scorcio di paradiso, che come dici tu giustamente, vediamo proprio le gradinate degli scanni della candida rosa, e noi vediamo quattro donne. E donne di una certa consistenza, sia nell'amore ebraico, nella Bibbia, quindi Rachele, e poi Beatrice, Lucia e soprattutto Maria Maria, che è la vergine madre, figlia del tuo figlio. È solo Beatrice che deve un po' essere giustificata, perché Rachele e Lucia chiaramente non hanno bisogno di legittimazione, nel senso, Beatrice, e poi Beatrice è l'enorme personaggio che è, forse solo lei è quella che ha bisogno di qualche parola in più. Però anche ricordiamoci, Virgo, il parallelismo che c'è, che esiste nella commedia, non so, ma anche nella vita nuova, fra Beatrice e la Vergine Maria. Certo. C'è un forte parallelismo. Dimmi. Ma poi vedremo, secondo me, anche nei due esempi successivi, come Lucia, in realtà le tre donne sono una vera e propria trinità, dove una partecipa delle caratteristiche dell'altra, perché Beatrice viene presentata come quella che ha gli occhi, che brillano, lucevano gli occhi suoi più con la stella, quindi ha questi occhi luminosi. Maria è la donna nel cielo, gentile. Vedremo come Lucia a un certo punto, soprattutto nell'esempio successivo, è come se fosse un personaggio che fluidamente uscilla tra delle caratteristiche di Maria, di Maria e delle caratteristiche... Comunica, comunicante, comunica e comunicante. Comunica ed è intermedia, è mediatrice. Lucia è assolutamente una funzione mediatrice tra le due. Quello che dovrebbe essere appunto i santi. Il santo è colui il quale porta a Dio, ma ti ha questa freccia verso l'Altissimo. Allora, qua è tra l'altro interessante, come dicevi tu giustamente, Dante è il fedele, e il fedele anche per quelle cose che ci siamo detti. Possiamo mostrare alle persone che ci stanno aspettando? Allora, mi ha dato un po' in tilt tutto quando si è spento, e adesso non capisco perché non riesco più a farlo rivedere. Non saprei... Ecco, 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 ecco. No, no, sono riuscito, adesso sono riuscito. Ok. Perché con Mirko abbiamo preparato non soltanto l'ontologia iconodrafica, ma anche letteraria o... Ok. Sì, forse non si vede... Se ingrandisci... Adesso provo a ingrandire. Bravo. Si vede ingrandito? Sì, io vedo. Vabbè, io ho anche gli occhiali, però io ci vedo. Ok, ok. Sì, sì, sì. Vabbè, adesso ingrandirlo di più faccio fatica. Allora, sì, come tu dicevi, giustamente c'è fedele, questo fedele... Fedele, attenzione... Fedele si richiama intanto al Medioevo, al vassallaggio, quando appunto la persona è fedele al suo signore, ma il fedele è anche un richiamo appunto anche biblico. Ricordiamoci le lettere vere o pseudo vere di Paolo alle varie comunità cristiane. Quindi il fedele si deve leggere anche in un senso polisemico, nel suo aspetto appunto biblico, ma nel suo aspetto appunto anche medievale lirico, quindi di servitore, di chi omaggia, di chi mette la sua vita alle mani, nelle mani appunto del padrone o del suo principe. Certo. Allora, io andrei, anche per motivi di tempo, alla seconda lettura, che secondo me... Perché in fondo il canto secondo, per fortuna, è un canto anche fatto, ma nella seconda lettura, tratta dal canto nonno del Purgatorio, vediamo invece un ruolo attivo di Lucia. A parte che Lucia era attiva anche nel primo, perché lei è quella che muove, è Lucia che muove, e genera questa poi staffetta. Allora, io... Beh, non me lo leggo tutto l'estratto, però mi interessava questo passo qua. Allora, Dante fa un sogno, sogna di essere rapito da un'aquila, e a un certo punto quest'aquila prende fuoco, si incendia e lui si sveglia. Non altrimenti Achille si riscosse gli occhi svegliati, rivolgendo in giro, e non sapendo là dove si fosse, quando la madre da Chiron a Schiro trafugò lui dormendo in le sue braccia, la onde poi gli greci il dipartiro. Che mi scossi io, siccome d'Arcia mi fuggì il sonno, e diventai smorto, come fa l'uomo che spaventato a ghiaccia. Dante si era addormentato in un punto della spiaggia dei negligenti all'interno del purgatorio, si era addormentato in un punto, ha fatto un sogno, si è svegliato da un'altra parte. Il paragone che lui sente il bisogno di fare la similitudine è con Achille. L'episodio è un episodio tratto dall'Achilleide di Stazio. Achille, mentre dorme tra le braccia di Chirone, viene trafugato da madre Teti, la quale lo prende e lo porta a Sciro, in realtà per proteggerlo, perché non voleva che lui finisse all'interno della guerra di Troia. Quindi Dante come Achille e questa Teti che lo prende nelle braccia e lo trasporta. Ma andiamo avanti. Dal lato me era solo il mio conforto, Virgilio, e il sole era alto già più che due ore, e il viso m'era la marina torto. Non aver tema, disse il mio signore, fatti sicur che noi siamo a buon punto. Non stringere, ma rallarga ogni vigore. Tu sei o mai al purgatorio giunto. Vedi l'albalzo che il chiude d'intorno, vedi l'entrata là che parte in giunto? un attimo che non trovo più adesso il riferimento, scusami, adesso non... eccolo qua. Sì, 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 è solo qua. Eccolo qua. dinanzi nell'alba che procede al giorno quando l'anima tua dentro dormia sovra gli fiori onde laggiù addorno venne una donna e disse Eccolo qua il punto. Allora, la cosa interessante è intanto questa traslazione come Teti tiene tra le braccia una chille dormente e se lo porta così Lucia prende in braccio questo bellissimo tra l'altro abbraccio di... c'è questa bellissima illustrazione di Blake di Lucia William Blake Lucia che trasporta tra le braccia Dante addormentato quindi Lucia una nuova Teti anche a proposito di parallelismi che facevi tu mondo pagano mondo cristiano Teti e Lucia L'altra cosa è che le parole che vengono scelte per presentare questa santa è donna donna nel ciel gentil che si compiange e dall'altra gli occhi belli e gli occhi belli sono un attributo di... allora gli occhi belli sono un attributo di Beatrice ma poi legato a Lucia sono proprio il cuore anche della sua influenza del suo potere delle sue capacità taumaturgiche quindi in questo momento non so mi verrebbe da dire Pietro non è solo Lucia che prende in braccio Dante sono tutte e tre le donne insieme sì infatti e poi quell'altro concetto che sta alla base del purgatorio che è appunto la misericordia che è l'amore sì certo e poi questo infatti che si rivela in questo abbraccio fra la mamma che è una dea Teti e il figlio che è un mortale che è Achille anche questo voglio dire quindi questo abbraccio dell'eterno al mortale per portarlo altrove per portarlo in altra strada in altra via è molto forte poi anche il fatto che lei dice di se stessa io sono Lucia quindi anche la forza attiva di una donna in pieno medioevo cioè sì quando la donna non l'aveva parla dimmi Mirko stavo pensando in questo canto lei dice io sono Lucia nel canto secondo l'inferno Beatrice dice io sono Beatrice sì quindi anche non so come dire sono loro che si nominano non devono essere vedete se riesco a fare vedere l'immagine di Blake ditemi se proviamo no così un po' è un po' rudimentale provo provo Pietro provo a trovarne è bellissimo bellissimo ma ci rende ne trovo una io ne la riesci a mettere ne trovo una io ne provo a trovare una io vediamo se ne trovo una eccola qua l'ho trovata vediamo se riesco perché poi Dante Dante in questo suo percorso fa sua quella famosissima frase di Giovanni di Salisbury siamo dei nani sui giganti quindi Dante serve di tante cose di tanti elementi per rendere unico il suo viaggio perché il suo viaggio è realmente unico è paradigmatico il suo viaggio e anche in questo c'è una ecco grazie molto meglio e Matti eccola qua bellissimo sì perché poi è un volo notturno tra l'altro sì posso giurare con le parole è un volo notturno meno notturno della notte dell'inferno certo che comunque è una notte visitata dalle donne quindi comunque continua è anche un po' sbiadire giusto un po' sbiadire sì sì assolutamente allora questa allora è la seconda apparizione di Lucia che forse è l'apparizione più attiva come dicevamo quella dove proprio lei agisce e tu hai notato giustamente intanto queste donne non sono certo non hanno bisogno di un uomo che gli dica cosa devono fare agiscono intervengono e fanno queste transizioni tra l'altro queste transizioni sono quelle sono quelle transizioni che alcuni vedono e storcono il naso perché dicono come il passaggio dal canto terzo al canto quarto molti hanno storto il naso come dire eh vabbè Dante non sapeva cosa fare fa il terremoto sviene e secondo me sono letture riduzionistiche Dante sa sempre quello che vuole fare lì sta parlando di nuovo della presenza di Dio certo c'è Dante che non è Nenea e non è Nepaolo quando arriva nel canto terzo è Enea con Caronte ed è Paolo che sviene perché è colto da questa luce divina quindi è sia Enea che Paolo nel canto terzo non è soltanto un omaggio virgiliano nel canto terzo c'è anche un omaggio a Cristiano sì non può essere solo la figura di Nea questa epotetica salita di Paolo nel Degno dei Cieli perché poi è tutta anche la un'ipotesi di Paolo non si ha questa visione paulina questa visio paulina non è che si perché anche là poi è un argomento un po' troppo poi tecnico perché le lettere di Paolo vanno distinte in autentiche pseudo lettere pauline certo quello che non interessa è quello che pensava Dante certo Dante Dante ovvio Dante gli dà l'autorità chiaramente la terza lettura in realtà potrebbe sembrare una lettura un po' di una Lucia apparentemente sotto meno cioè meno evidente delle altre due però adesso io proverò a dire anche qualcosa che penso magari poi mi aiuti mi aiuti anche tu vediamo se riesco a ricondividere un attimo solo eccolo qua mi scuso se siamo oggi siamo così portate pazienza Lucia è così eccolo qua si vede? sta arrivando ecco sì 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 allora allora interessantissimo tra l'altro canto trentaduesimo perché interessantissimo perché questo canto trentaduesimo è assolutamente simmetrico il canto secondo dell'inferno il canto secondo dell'inferno sta i sei canti sono cento questo è il novantanovesimo quindi il secondo è il penultimo assolutamente simmetrici e speculari allora di contra Pietro vedi sedere Anna tanto contenta di mirare sua figlia che non muove occhio per cantare Osanna allora anche su questa terzina avremmo molte cose da dire perché Anna è così presa dall'amore materno che lei non guarda Dio ma guarda la figlia lei non si unisce e quindi c'è questo questa eccezione d'amore che Maria è irresistibile questo per mostrare la devozione Dante aveva una devozione mariana impressionante se volete datemi un'occhiata alla parte finale del canto ventitresimo del paradiso ci sono questi santi che tendono le mani verso la mamma come i bambini che è una cosa assolutamente commovente ma a parte questo e contra il maggior padre di famiglia siede Lucia che mosse la tua donna quando chinavi a rovinare le ciglia allora qua semplicemente sembreremmo essere tornati alla descrizione di quello che avvenne nel canto secondo dell'inferno giusto anche nel canto primo rovinare la vaura anche nel canto primo verso 61 sì sì certo però quello che chiaro quello che stavo dicendo è che lui sta semplicemente ripetendo questa cosa Lucia è quella che muove però la cosa la cosa interessante è intanto a mio avviso che Dante nel canto secondo avesse già ben chiaro come fosse fatta la candida rosa e qua di nuovo ne abbiamo la conferma perché poi Beatrice tornerà a sedersi vicino all'antica Rachele l'altra cosa interessante è che Lucia è l'ultima anima che vediamo della candida rosa per cui in qualche maniera il canto 32esimo è un elenco di santi di sante le ci sono le donne e donne ebree ci sono i bambini e ci sono Sant'Agostino San Giovanni San Francesco bla 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 l'ultima immagine che noi vediamo è Lucia quindi sì è vero che in questo momento Lucia viene semplicemente ricordata come quella che aveva fatto quella cosa ma Lucia è l'ultima immagine di santa che noi vediamo nella schiera dei santi e dei beati della candida rosa torniamo al discorso del nome perché anche Lucia ha il nome della luce Lucia Lumen Ab quindi perché Lucia è luce è questa luce che porta a Dio che va a Dio ecco perché anche conclude Lucia la cantica paradisiaca siete d'accordo Mirko? sì sì beh assolutamente quindi è vero che forse non è una posizione in qualche modo come potremmo dire però la posizione è l'ultima cioè Lucia è l'ultima che noi vediamo qua c'è una cosa interessante una riflessione che che fa Lino che fa Lino Pertile in un suo libro lui in sostanza dice la terza guida dantesca è Bernardo quindi Vergilio Beatrice Bernardo lui dice ma perché Dante cioè noi forse ci saremmo aspettati Lucia nel senso che in questo in questo ruolo lui un po' dice Bernardo salta fuori in maniera molto troppo inaspettata a me verrebbe da dire inaspettata per Lino Pertile perché anche Bernardo è assolutamente uno che ha l'identikit perfetto per essere lì dov'è soprattutto perché Bernardo anche lui è devoto di Maria e a Dante serviva quello in quel momento oltre che tutto l'aspetto mistico di Bernardo che è un aspetto che a Dante interessa l'aspetto di Lodi Mariane ma dall'altro anche l'aspetto attivo di Bernardo che era sì un contemplativo ma era anche un contemplativo capace di scendere in campo e di agire poi politicamente quando c'era bisogno quindi era un personaggio che sicuramente poteva piacere a Dante perché è un po' l'idea di spiritualità che ha Dante guardo le stelle ma nel frattempo devo guardare anche la storia certo sono Dante non Dante non mette gli eremiti nel deserto Dante mette sempre nei suoi santi anche fondatori di ordini mette sempre dei santi che hanno un ruolo attivo tornando a Francesco e Domenico il ruolo è profondamente attivo ma anche benedetto Pier Damiani non ci sarà mai il contemplativo puro dell'anacoretta egizio infatti se mi consenti Mirko riprendiamo una acuta osservazione del grande filosofo francese Tien Gilson che dice appunto che Dante sceglie sceglie il meglio sceglie quello che comanda nell'ordine quindi sceglie Virgilio in poesia sceglie teologica astronomia sceglie Francesco in teologia affettiva sceglie San Bernardo in teologia mistica Dante per tornare al tuo discorso di prima è un sapiente mirabile regista che sa vedere e ha il piano completo quindi non solo questi giochi fa primo canto dell'inferno secondo dell'inferno e ultimo perché lui è questo mirabile regista che però sceglie il meglio per ogni cosa certo e non è da tutti vabbè ma la commedia è il meglio di tutto quello che c'era da prima di Dante fino a Dante lui ha fatto il meglio tra l'altro che scusami mi inserisco e andiamo leggermente fuori tema che Dante decida che Virgilio è il meglio della poesia non era una scelta scontata ai tempi di Dante no perché ai tempi di Dante sarebbe stato video la scelta Dante fa una scelta da critico molto coraggiosa sì perché il successo di Virgilio ai tempi di Dante non era tra l'altro c'era tutto questo ruolo di Virgilio Mago Virgilio Negromante insomma tutte queste robe qua ma a parte questo e quindi in sostanza insomma a parte le dice ma forse ci sarebbe avremmo voluto Lucia e per carità sarebbe stato bello poi le scelte di Dante come hai detto anche tu Pietro sono sempre quelle giuste però ecco non è che quello che volevo dire è che non è che Lucia sia in secondo piano o relegata il fatto che lei chiuda la sequenza di Santi è invece proprio per donarle tra l'altro è nominata tra Pietro tra Pietro e Anna quindi anche in questo caso in una costruzione eh molto interessa cardine eh sì la mamma di Maria San Pietro e dopo c'è Lucia quindi anche in questa sequenza sono è una sequenza di grande intensità io quando tu hai letto quella 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 terzina ho sempre davanti agli occhi e ho anche un po' cambio un po' le figure col tondodone di Michelangelo quando vedo questa sara famiglia in prospettiva e quindi Anna e Maria questo gioco prospettico salvifico quando madre e figlia guardano l'autore della vita che è Dio cioè Dante è un abilissimo giocatore di prospettive salvifiche umane di grazia è unico è grande quindi voglio dire c'è puramente incredibile sì sì il canto trentaduesimo tra l'altro è un canto proprio impressionante per come anche vengono disposti tutti i santi e anche qua io penso questa capacità sua di 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 vedere delle delle cose di di ma sai Mirko perché adesso per esempio l'angeologia non è più così tanto praticata anche in teologia una volta invece erano discipline studiate meditate conosciute oggi la maggior parte di chi sta nelle chiese sa ben poco di angiologia per esempio e non mi auguro di non sbagliare certo ti dico solo adesso io confido una cosa a te adesso faccio una confidenza confido a te a chi ci segue nel senso che tu sai bene che c'è questa questione tra i dantisti se la commedia sia un avvisio o un affizio cioè Dante ci dice che il viaggio l'ha fatto però in fondo chi ci crede cioè i dantisti non ci credono i dantisti la maggior parte dei dantisti italiani non ci crede che Dante abbia fatto questo viaggio dicono un'opera di finzione e viene analizzata con tutti gli strumenti io mi sono sempre chiesto io che credo che invece che Dante il viaggio l'abbia fatto e quindi lui per me la commedia è una visione forse ha avuto il torto di averla scritta così bene per cui non è stato preso sul serio ma nel senso cosa distingue la visione di Dante da tutte le altre visioni di qualche pastorella di qualche probabilmente che Dante era un nome di cultura e l'ha incarnata incardinata dentro una struttura come dicevi tu anche così raffinata attenta ai minimi dettagli una regia così sovrana che diventa difficile perde un po' la spontaneità della visione però io stavo pensando nella mia testa non credo che tutti e cento i canti siano una visione non credo che tutto quello perché ci sono delle parti in cui ci si accorge che anche sono piegate alle esigenze etiche politiche ma quella visione del canto secondo dell'inferno a me un po' cioè Beatrice Lucia Rachele a me un po' piace pensare che potrebbe essere forse forse l'autentica visione che lui ha fatto in fondo lui lo dice anche alla fine della vita nuova a chi è la mia visione stavo pensando la stessa e mica questa ammirabile visione più bello di vedere Beatrice in cielo vicino a Rachele e arriva Lucia da lei poi dopo ci ha costruito tutto quello che ci ha costruito però nella sua anche intimità semplicità e luminosità quello lì ha le caratteristiche di una visione sto azzardando tu cosa ne pensi no 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 poi sai nessuno di noi ma anche penso però qualcosa dicevano gli antichi la grazia suppone la natura quindi qualcosa di fisicamente come dire di naturalmente Dante l'avrà sperimentato l'avrà vissuto certo qualche esperienza l'avrà fatta no io penso che fosse un uomo abitato da visioni e non è l'unico nella letteratura universale sì ma sai può essere anche dei sogni dei sogni particolarmente che poteva anche esserci in una mentalità Dante sicuramente era un uomo sensibile anche ipersensibile per certi aspetti il ritratto che fa di sé nella vita nuova è di un personaggio sempre abitato da visioni la vita nuova ha delle visioni ben più perturbanti rispetto alla commedia è un testo molto incandescente ma anche noi passami la battuta scherzo e ironia anche noi oggi o l'uomo di oggi è abitato da visioni da avatar sì quindi c'è ma io credo che noi abbiamo perso un po' di quell'immaginale di quell'immaginario certo a voglia perché noi abbiamo delle immagini che però cioè noi siamo bombardati da immagini che sono immagini commerciali sì il simbolismo di un uomo medievale che entrava in una chiesa e guardava una chiesa qualsiasi o degli affreschi o delle miniature non c'è secondo me non è no 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 siamo un uomo un po' della facoltà immaginativa sì 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 a proposito di viaggiatori in quanti ci stanno seguendo ma no c'è un po' un via vai siamo su 7 8 ma poi sai a parte che il venerdì sera potrebbe essere anche la gente va chissà a fare l'altro però poi insomma chi ci segue ama magari guardarsela dopo su youtube quando faremo allora io in realtà avrei concluso la parte mia direi che possiamo anche andare semplicemente in chiusura tu avevi qualche cosa da aggiungere avevi voglia di aggiungere qualcosa su quello che abbiamo detto no non una di di nuovo rispetto a quando ho detto appunto prima ribadirei la forza profetica che Dante ha attribuisce alle donne sì che salvifica alla fine salvifica assolutamente sì 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 la trinità delle donne benedette arriva quasi prima della trinità poi ha un riflesso se vuoi poi ha un riflesso di certi di sim non è non è in competizione è in integrazione bravo è assolutamente integra allora io caro Pietro intanto ti ringrazio di questa serata che insomma che hai anche pensato e che hai anche curato nella scelta delle immagini eccetera noi ci rivedremo ad aprile giusto quando partaglieremo della tua creatura il calendadante e poi forse ci vedremo ancora insomma comunque ci vedremo nell'anno nuovo ci vedremo ancora un paio di volte e volevo soltanto ricordare invece a chi ci ascolta che martedì prossimo alle 21 farò un'altra diretta questa volta con Paolo Mottana docente di pedagogia pedagogia immaginale alla Bicocca di Milano e col quale parleremo di Virgilio il mentore gli aspetti però ecco diciamo gli aspetti di cattivo maestro tra virgolette di Virgilio e quindi vi aspetto anche martedì prossimo Pietro Pietro Salvatore Reina ti ringrazio della generosità della di come sei stato insomma in questa serata grazie a te grazie che ci hai seguito speriamo di aver portato se mi consenti la frase Mirko sperando di aver portato un po' di salvezza anche a chi ci ha ascoltato ma non per nostro merito per il mito di Dante delle sue parole un po' di luce diciamo così Pietro sì un lumino un lumino va bene grazie a tutti quanti tutti quanti ringraziamo chi ha partecipato quindi insomma c'è stato un gruppo di tue seguaci dal sud giusto stasera Pietro ma penso anche delle tue le nostre ma le mie non ci sono ancora palesate io secondo me questa sera sono ancora saranno andate a spasso va bene Pietro un grande abbraccio un grande salute grazie a tutte le persone che ci hanno seguito grazie buonasera grazie a tutti i nostri spasso grazie a tutti i nostri spasso